buongiorno signore e signori ragazzi e ragazzi oggi voglio presentarvi bmw r100 rs siamo nel 1976 quando bmw equipaggia per la prima volta al mondo un con una carenatura integrale che vediamo bene in figura la sua moto ammiraglia e veniva denominata anche cockpit integrale proprio per ricordare appunto una carenatura che consentisse come un aereo insomma di penetrare nell'area ed è stata sperimentata progettata e sperimentata poi nella galleria del vento di pinifarina quindi come si può vedere una carenatura molto avvolgente che consentiva al pilota di rimanere completamente riparato dal flusso dell'aria anche il manubrio mi ricordo era molto stretto proprio per favorire questa inserimento del pilota nel all'interno della carenatura perché c'è stata questa evoluzione proprio perché in quel periodo la modernamento della rete autostradale e anche stradale richiedeva moto sempre più veloci protettive però che ma si coniugavano con la presenza delle moto cosiddette nude proprio perché la velocità appunto e la protettività vanno di grande vanno insieme devono essere coniugate quindi veniva derivata dalla r90s che aveva anch'essa un cupolino e la nuova r100 ha incrementato la cilindrata più che altro per favorire l'elasticità del motore ai bassi regimi così da migliorare al massimo il comfort di guida tanto che in quinta marcia si poteva già riprendere a partire dai 2000 giri insomma motore quello bmw con il box i due cilindri contrapposti boxer ha sempre dimostrato grandi capacità di coppia quindi elasticità di marcia a maggior ragione in questo modello portato a mille centimetri cubici ovviamente nella linea predonominava la carenatura e faceva sì che all'interno del cupolino appunto avendolo studiato nella galleria del vento non esistessero di fatto turbolenze e inoltre le spinte sugli alettoni anteriori quindi se queste parti anteriori vedete profilate verso verso l'alto centravano proprio in modo aerodinamico la moto nella sua traiettoria garantendo anche una notevole stabilità proprio sul dritto la moto risultava quindi pronta scattante con un'ottima tenuta di strada che d'altronde sempre stata prerogativa delle bmw il consumo un po un po abbastanza elevato nel senso che siamo intorno ai 14 chilometri con un litro però il serbatoio vedete di generose dimensioni da 24 litri garantiva comunque una buona autonomia quindi si potevano percorrere lunghe percorrenze a media anche elevate e in un comfort soprattutto senza precedenti a questa moto dal punto di vista tecnologico quindi la moto risultava poi curatissima con interventi di manutenzione inoltre molto limitati fu prodotta a partire dal 76 e fino al 1992 circa 40 mila esemplari quindi guardando la moto nel suo complesso possiamo ammirare la splendida carenatura anzitutto non di meno le belle ruote in lega e come al solito la cura che bmw pone per quanto riguarda i suoi mezzi meccanici il doppio disco naturalmente all'anteriore alta caratteristica la presenza del cardano che anche dal punto di vista della manutenzione è appunto la trasmissione ideale un'altra cosa da notare la bella sella vedete molto ampia comoda anche per il passeggero bella la parte posteriore che va a chiudersi con questo codino e c'è anche un pratico porta porta oggetti scusate un portapacchi pratico portapacchi posteriore come viene denominato di solito imponente direi il motore ma coperto parzialmente dalla carenatura che presenta le solite prerogative della bmw quindi anche il fatto che ci siano comunque i cilindri sporgenti protegge comunque già esso la parte la parte delle gambe inferiore e i piedi dal dall'acqua dalla pioggia dalle intempieri quindi una moto che si prestava anche a un utilizzo urbano anche in periodi freddi dell'anno comunque con la pioggia in presenza di pioggia quindi bmw si propone con questa ammiraglia che avrà appunto un buon successo naturalmente tenendo conto anche del prezzo elevato ma giustificato dalle sue notevoli caratteristiche bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike attivate la campanella per essere sempre aggiornati iscrivetevi al canale e qui sotto se volete mettere i vostri commenti magari chi ha posseduto la moto ci da qualche indicazione in più iscrivetevi al canale grazie mille ciao buona giornata